Tragico incidente stradale nella notte sulla strada provinciale 25 che collega il Goli alla 131 nei presi del Bivio per Galtelli. Nell'incidente ha perso la vita Roberto Ravaroto, 41 anni, di Nuoro, rappresentante di una ditta di caffè. L'uomo era la guida di una Ford Fiesta che ha impattato contro una Fiat Grande Punto, il cui conducente, originario del Goli, ha riportato delle contusioni e è stato ricoverato nell'ospedale San Francesco di Nuoro per le cure del caso. Sul posto sono giunti alcuni equipaggi del 118 che hanno cercato di rianimare Ravaroto, ma i tentativi sono stati inutili. L'uomo è deceduto a causa dei traumi riportati nell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dagli equipaggi della Polstrada che ha posto sotto sequestro i veicoli e che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità.